Alle pendici dell'Etna un Canadair nel tentativo di spegnere un incendio getta l'acqua sulle fiamme e si abbassa e impatta con la carena. Due vittime. Pandemia, guerra, carovite, è un momento delicato per aziende e per il tessuto imprenditoriale, le richieste di Confindustria Catania. Urbanistica, Casteldaccia, approvata dal Consiglio Comunale, la proposta per la realizzazione del primo parco urbano. Presentata la 44esima edizione dell'Efebo d'Oro, il premio internazionale di cinema e di narrativa che si terrà a Palermo dal 5 al 12 novembre. Brutte notizie per il Palermo che dovrà fare a meno dell'esterno Salvatore Elia per almeno due mesi e domani il rosa-nero sfida nel Modena in trasferta. Benvenuti alla prima edizione del TG Media News di venerdì 28 ottobre. Abbiamo sentito i titoli. Alle pendici dell'Etna, un Canadair nel tentativo di spegnere un incendio getta l'acqua sulle fiamme, si abbassa e impatta con la carena. Ci sono state due vittime. Tragedia su Monte Calcinera. Un Canadair ha impattato con la carena sul terreno e poi è esploso. La deflagrazione ha causato anche un incendio che ha reso ancora più difficile l'intervento dei soccorritori, due le vittime. L'aereo era decollato dalla mezzia terme ed era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo in territorio di lingua glossa, la cui origine non è stata accertata e che in serrata è stato domato. Il velivolo aveva prelevato dall'acqua in mare davanti alla città di Giarra e dopo una virata su Monte Calcinera aveva effettuato un lancio nella zona centrale del rogo. Alla tragedia assistito personale della forestale regionale, che era presente sul posto e che ha dato subito l'allarme. Per i soccorritori l'intervento è stato difficile perché la zona è impervia e non ci sono strade per raggiungere il luogo dove c'è il relitto del velivolo. distrutto dall'esplosione. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco anche con una squadra a speleo alpino fluviale con l'elicottero Drago 146 decollato da Catania, personale della forestale che ha impiegato anche un proprio elicottero e medici del 118 e dell'elisoccorso. Esprimo profondo cordoglio, ha dichiarato il paziente della regione Renato Schifani, per la morte dei due piloti impegnati insieme ai nostri uomini e donne del corpo della forestale e della protezione civile in attività di prevenzione e spegnimento di incendi sull'Etna. Sono vicine alle famiglie e ai colleghi di lavoro colpiti da questa tragedia. Dalle immagini che ho potuto vedere appena ora sembrerebbe un incidente tecnico che è successo. Fatto sta che purtroppo sono fersi due vite umane. Come sapete la stagionante di incendi è finita. Purtroppo a causa di questo clima impazzito, in questa giornata abbiamo diversi incendi, diversi canali rimpegnati. Purtroppo questo ha avuto questo brutto incidente in questa zona che comunque è molto impervio. Ora poi saranno i tecnici a dire che cosa è successo. Pandemia, guerra e caro vita. È un momento delicato per le aziende e per il tessuto imprenditoriale. Le richieste di Confindustria Catania. Sentiamo. Un momento delicato per le aziende, per il settore lavoro. Insomma, che prospettive ci sono? Che speranze ci sono? Allora, le speranze sicuramente non sono positive. Stiamo vivendo un momento di grandissima difficoltà. Appena usciti dalla pandemia, che effettivamente era ripartito tutto quello che noi pensavamo e tutto stava andando, diciamo, la prospettiva era molto positiva, il PIL cresceva. Purtroppo, ahimè, la guerra, il caro Bolletti, il caro Materie Prime, che oltre a essere care non si trovano. Questo purtroppo sta mettendo a rischio la crescita del nostro prodotto interno lordo. Siamo in una fase di stagnazione, stagnazione significa recessione, siamo in una fase di difficoltà enorme che porterà sicuramente e indebolerà sicuramente il nostro tessuto imprenditoriale. Noi chiediamo due cose molto semplici. La prima, ristori immediati, liquidità immediata alle aziende. Due, la ripresa subito della moratoria. Blocco di mutui, di finanziamento e di tutto, perché le aziende in questo momento non possono prelevare dai loro conti occorrenti. Devono avere la possibilità di poter pagare gli stipendi, poter pagare gli F24 perché abbiamo i nostri turco che devono essere in regola. Tutti quelli che sono gli adempimenti importanti per oggi fare impresa. Perciò, immediata liquidità alle aziende, ristori e blocco di tutto quello che è la moratoria. A Messina, confronto tra comune e comitato, centro cittadino su ZTL e isole pedonali. Il comitato non è composto solo da commercianti, ma il suo 54% è composto di residenti che hanno dei dubbi su quello che è il PGTU, così come è stato presentato alla cittadinanza. Per fortuna oggi l'amministrazione ha voluto e ha dato ampie rassicurazioni su quella che è la vera natura del PGTU, cioè la flessibilità di questo PGTU, ovvero sia tutto ciò che noi vedremo verrà sicuramente realizzato a step, in dei termini che verranno condivisi anche con il comitato. Siamo stati confortati da una apertura assoluta nel chiarire che le aree di ZTL sono delle aree che verranno in qualche modo messe a regime in maniera, non tutto in una volta, ma in maniera assolutamente parziale, parzializzeranno per capire come ci si muove, non solo, ma che i varchi saranno gestiti a saturazione dei posti auto, ovvero sia non si perderà nessun posto auto all'interno della ZTL perché si passava letteralmente da quasi 6.000 posti auto ai 1.600 dei nuovi parcheggi. Questo significava che avrebbe creato un gap di 4.400 parcheggi che sono atti alla fruizione di tutti, di clienti, ma anche di persone che vanno nei vari uffici ASPE, nelle varie aree professionali. Questo ci è stato in qualche modo rassicurato, ovvero sia la ZTL e gli stessi verbali scatteranno a saturazione dei posti auto. Come soddisfa l'opportunità di via Primo Settembre dalle 20.00 fino alle 6.00 del mattino? Come ci soddisfa una grande apertura nella opportunità di non chiudere le traverse del viale San Martino Basso e di avere un'isola pedonale nel viale San Martino Basso dalle 19.30 fino alle 6.00 del mattino? Presentato oggi a Palermo il progetto L'Arte adotta un bambino, presentato dall'APS Teatro dei Ragazzi con il sostegno di Fondazione Peppino Vismara, un percorso che implementa e arricchisce le attività portate avanti dall'associazione che ha sede alla calza e porta la musica nella vita dei bambini e giovani dietro a compresa tra i 6 e i 18 anni, contribuendo a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica. L'Arte adotta un bambino, un progetto che attraverso laboratori offrirà a bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni l'opportunità di avvicinarsi alla musica. Una forma di riscatto sociale rivolta anche a quelle famiglie residenti imborgate e disagiate che non avrebbero mai avuto la possibilità economica di fare intraprendere un percorso musicale ai propri figli. I laboratori avranno la durata di 24 mesi e prevedono anche la messa in scena dell'opera tratta da racconto di Gianni Rodari, La Sirena di Palermo. Un'opportunità di riscatto sociale molto importante, il nostro percorso già è attivo da molti anni e con risultati straordinari e grazie a questo contributo importante di Fondazione Vismara, Fondazione Peppino Vismara, che ci consentirà di sviluppare e di ampliare i laboratori strumentali ma soprattutto di mettere a concorso un'opera nuova anche per i giovani compositori, quindi un'opportunità anche per i giovani compositori perché sarà un circuito nazionale, tutti i conservatori d'Italia potranno partecipare perché i nostri ragazzi attraverso i laboratori poi potranno realizzare questa produzione nel 2024 perché i nostri tempi sono lunghi, perché gli studi di musica sono lunghi, perché uno studio serio prevede anni e anni di studio dello strumento e anche della preparazione. Siamo contenti che come città metropolitana abbiamo dato un sostegno a questa importante iniziativa perché convinti che l'integrazione di tanti giovani all'interno dei propri quartieri e la possibilità di dare a loro una chance di svago ma anche di formazione è fondamentale per il loro percorso di vita. Una iniziativa meritoria che rivela ancora una volta il potere sconfinato della musica che merita e gode del pieno supporto istituzionale da parte del Comune di Palermo e non solo. Centro dei laboratori, l'Istituto delle Artigianelle della Calza, luogo gioccolodato dall'APS Teatro dei Ragazzi di Palermo. Sia Pia che tutti gli altri volontari lavorano molto per questa realtà di ragazzi con le loro famiglie e noi suore, già da tanti anni presenti in quella realtà, per intuizione di Sorana Eusebia, iniziò questo progetto di musica. Poi arrivò Pia con la sua grande volontà e maestria e coinvolse tutti gli altri e così questo progetto che è di promozione dell'ambiente perché promuove il bambino, le dà fiducia e anche la famiglia. La musica nobilita. Urbanistica Casteldaccia, approvata dal Consiglio Comunale, l'ha proposta per la realizzazione del primo parco urbano di 18.000 metri che dovrebbe nascere tra via Ugo, la Malfa e via Fiume. Tantissime novità a Casteldaccia, uno fra tutti, l'ultimo Consiglio Comunale ha approvato la variante allo strumento urbanistico per quanto riguarda la realizzazione di un parco urbano tra la via Ugo, la Malfa e via Fiume. Un fatto importante per Casteldaccia perché sarebbe il primo parco urbano diciamo di 18.000 metri quadrati, quindi all'interno del territorio comunale e quindi siamo contenti di questo grande obiettivo. La gara scade il 5 novembre perché col PNRR si può mandare in gara anche prima della variante allo strumento urbanistico. Diciamo che l'unico neo negativo di tutta questa vicenda è il fatto che le opposizioni o le minoranze, come li chiamo io o meglio ancora, hanno votato, si sono astenuti in un argomento così importante come se il parco urbano è una cosa che interessa solo l'amministrazione o la maggioranza consigliare. Un grande errore io ritengo che sia stato da parte delle minoranze. Ricordo che il PD ha votato a favore una variante allo strumento urbanistico che poi è stata bocciata che riguardava soltanto una persona e oggi votano contro la variante allo strumento urbanistico per una cosa che interessa tutta la cittadinanza. Un'altra cosa importante è il completamento del campo di calcio, anche questo in gara sempre assieme con i fondi del PNRR che scade giorno 5 novembre. Ci stanno consegnando nei prossimi giorni l'ala per quanto riguarda il centro di urno per anziani dove stiamo realizzando una sala teatrale e quindi nei prossimi giorni sarà consegnato già tutti i lavori relativamente alla ristrutturazione. Adesso dobbiamo acquistare gli arredi e così via. Stiamo completando i lavori per l'abbattimento del bene confiscato alla mafia sulla statale 113 di fronte alla Vinicorvo. Stiamo completando i lavori per quanto riguarda la ristrutturazione dell'asilo nido perché mentre in tutte le parti d'Italia gli asili nido venivano aperti a Casteldaccia hanno deciso di chiudere l'asilo nido. Ci sono lavori importanti che si stanno facendo per la messa in sicurezza della circonvallazione. un canalone laterale alla circonvallazione che mette in sicurezza quella strada che tanti problemi ha creato negli anni. Aspettiamo l'ultimo decreto di finanziamento per quanto riguarda il secondo lotto e quindi lotto di completamento della Torre Duca di Sala Paruta che speriamo di mandare in gara sia il primo che il secondo lotto di completamento entro la fine dell'anno. Tanti lavori e tanto lavoro fatto per quanto riguarda il Comune di Casteldaccia in questi anni. Grandi obiettivi su cui siamo arrivati. Speriamo di poterli portare quantomeno all'inizio di tutti questi lavori entro la fine di questa legislatura. Dopo i tre appuntamenti organizzati a Trapani, San Vitolo Capo, Mazzara del Vallo, a Marsala si è tenuto l'ultimo road talk sulle isole ecologiche per il conferimento dei rifiuti marini del flag, torri e tonnare del litorale trapanese. Marsala proprio di recente è stata considerata una città leader a livello regionale per la raccolta differenziata ma anche per l'economia circolare. Non si tratta soltanto della percentuale che è oltre il 75% che è un risultato importante ma anche per tutto quello che si sta facendo in piena sinergia con i privati. Credo che questo porterà dei risultati importanti anche dal punto di vista della comunicazione perché un cittadino che ha la possibilità di constatare che attraverso la frazione organica correttamente differenziata si produce biogas a Marsala o si può riutilizzare e riciclare il vetro e incoraggiato chiaramente a fare bene e che tutto quel lavoro non si vanifica. Oggi si raggiunge un traguardo importante anche nel settore della pesca, un settore trascurato con un danno notevole perché poi si rischia di inquinare ancora di più i nostri mari. Avere a Marsala un'isola ecologica riservata ai pescatori e riportisti è importante perché concorre ad aumentare il livello dei comportamenti virtuosi e della raccolta differenziata nella nostra città anche in questo segmento che riguarda la pesca e quindi non possiamo che ringraziare e riconoscere il lavoro che è stato fatto dal FLAG è un'opportunità per la città, dobbiamo continuare nella logica della prevenzione, della sensibilizzazione, del coinvolgimento della comunità marsalese perché possa sempre di più diventare un esempio. È un intervento che rientra nella pianazione locale e quindi tra l'iniziativa che sta portando avanti il FLAG nell'ottica della tutela, valorizzazione e promozione anche del pescato. Oggi c'è stata la presentazione nell'isola ecologica, nei giorni scorsi abbiamo avuto la presentazione negli altri comuni, San Vito, Lo Capo, Trapani e a Mazzera addirittura due isole ecologiche. è Marsala quest'oggi. L'intervento proprio su Marsala, così come negli altri comuni, è proprio quello di cercare di coinvolgere gli operatori della pesca, in particolare della piccola pesca, che quotidianamente raccolgono tanti rifiuti marini e quindi l'obiettivo è quello di riuscire a raccogliere il più possibile rifiuti marini nell'ottica della tutela dell'ecosistema marino o del Mediterraneo, in questo caso, che contribuisce certamente anche a migliorare la qualità del pescato che arriva anche nei nostri piatti. Fiera dei Morti a Catania, apertura domani all'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe e l'Arena. Sentiamo. Prende il via domani, sabato 29 ottobre alle ore 11, la Fiera dei Morti, nella sede dell'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe e l'Arena, con ingresso da via Forcile a Catania, sito tornato nella disponibilità del comune dopo l'utilizzo come hub vaccinale durante la pandemia. La manifestazione fieristica, che accompagna come da tradizione il periodo della commemorazione dei defunti, sarà aperta al pubblico sino al 3 novembre, nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 9 alle 24, e nei feriali, dalle 9 alle 22 e 30. Tutto il sito è stato sottoposto nei giorni scorsi a interventi di pulizia all'interno del padiglione, a carico dell'ASP, e di sistemazione esterna soprattutto delle aree a verde, curata dal comune, per accogliere uno spazio gioco per i bambini, aree food interne ed esterne per degustazioni, 200 stand distanziati di un metro e adibiti prevalentemente alla vendita ed esposizione di prodotti tipici artigianali. In occasione della Fiera dei Morti, l'amministrazione comunale ha inoltre disposto la chiusura del mercatino delle Pulci della domenica a San Giuseppe, l'Arena. Cuncuma, il volto delle streghe, è l'evento pensato dall'autore Renzo Conti che si terrà a Palermo presso Villa Pompeiano il 31 ottobre. Per me è davvero un onore partecipare a questo evento soprattutto in un giorno particolare che è quello del 31 ottobre nel sabba più importante e sacro dell'anno. I proprietari della villa hanno scelto i miei libri e quindi di iniziare una serie di eventi con la mia presentazione, con una presentazione per la prima volta duplice perché parleremo di entrambi i libri in quanto la storia è unica proprio perché nell'ultimo libro, Cuncuma, racconto della villa, racconto di una donna uccisa all'interno di questa villa e di un percorso spirituale che farà in un mondo chiamiamolo dei morti, di morti a metà fino a rinascere la nuova vita. È un evento particolare, diverso da una presentazione classica con me ci sarà la giornalista Antonella Folgheretti ci sarà il professore d'arte Giovanni Melazzo e poi le letture saranno a carico di Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco. Uno dei discorsi che abbiamo fatto con la proprietà è proprio quello di dare una visibilità diversa a questa villa perché per tanto tempo si è chiacchierato su tutti gli eventi che sono accaduti, almeno si pensa siano accaduti all'interno di questa villa quando in realtà non è così e i due argomenti si sposano perché anche nella mia storia è vero che si parla di una donna uccisa al suo interno però è anche vero che poi il messaggio finale è quello di una donna che rinascerà a nuova vita quindi di una donna libera finalmente appunto di una villa che ha un sapore diverso rispetto a quello che tutti noi palermitani conosciamo A Pantelleria è individuato a 130 metri di profondità un sito subacquo con oltre 300 anfore di epoca punica oltre 300 anfore di età punica sono state individuate nel mare di Pantelleria a 130 metri di profondità ad alcune centinaia di metri di distanza dalla porticciolo di Gadir le immersioni nell'ambito del progetto Pantelleria 2022 hanno avuto il coordinamento scientifico della soprintendenza del mare della regione siciliana il sito archeologico è stato documentato da un gruppo di subacquei alto fondalisti che ha rilevato una grande distesa di anfore sparse lungo una fascia di 400 metri nel corso delle immersioni sono state effettuate operazioni di rilievo e documentazione videofotografica realizzando in particolare una fotogrammetria tridimensionale ad alta risoluzione attualmente in fase di elaborazione in occasione della missione grazie al metal detector subacqueo sono state individuate in località Cala Tramontana alla profondità di circa 20 metri alcuni oggetti riconducibili al ritrovamento del 2011 quando fu scoperto e recuperato un tesoretto di circa 4.000 monete puniche si tratta in particolare di 11 chiodi in bronzo di un'imbarcazione naufragata nello stesso tratto di mare 26 anelli in piombo facenti parte della dotazione dell'imbarcazione e alcuni frammenti in metallo oltre ad alcuni in ceramica questo ritrovamento fa seguito a quello dell'anno scorso sempre in località Cala Tramontana quando furono individuate 40 monete della stessa tipologia nonché altri chiodi materiale ceramico e anelli in piombo i reperti recuperati sono stati trasferiti a Palermo presso il laboratorio di primo intervento della soprintendenza del mare per ulteriori studi e analisi presentata la 44esima edizione dell'Efe Bodoro il premio internazionale di cinema e di narrativa che si terrà a Palermo dal 5 al 12 di novembre si terrà a Palermo dal 5 al 12 novembre presso i cantieri culturali alla Zisa la 44esima edizione dell'Efe Bodoro festival internazionale di cinema e narrativa in 8 giorni di programmazione si assegnerà il premio Efe Bodoro alla carriera Silvio Soldini l'Efe Bodoro nuovi linguaggi città di Palermo alla coppia di artisti Tizza, Covi e Rainer Frimel e si presenteranno 7 film tratti da opere letterarie 5 opere prime o seconde in concorso per l'Efebo prospettive oltre a film fuori concorso incontri, masterclass e numerose altre iniziative ci saranno anche altri premi che verranno assegnati durante la settimana di proiezioni dell'Efe Bodoro si esatto come da tradizione noi assegniamo anche un premio che si chiama ANDE Associazione Nazionale Donne Elettrici che viene assegnato dall'ANDE Palermo a un film realizzato da una regista da una regista donna quest'anno ne abbiamo diversi e abbiamo anche la presenza di diverse registe che verranno a introdurre i loro film che sono tutti film molto belli quindi sarà probabilmente una bella battaglia poi assegniamo un premio ai mestieri del cinema che quest'anno va a Gaia Bussolati che è un'esperta di effetti speciali digitali nonché un premio per il miglior saggio di cinema che va a tre autori che hanno realizzato un interessantissimo libro intervista con Antonio Capuano il regista Antonio Capuano regista peraltro che recentemente è un po' venuto alla ribalta perché Sorrentino nel suo ultimo film lo ha chiaramente dichiarato come il suo maestro poi abbiamo noi una giuria di studenti liceali di cinque dei quattro diversi licei cittadini in totale sono una cinquantina di ragazzi che vedranno i film della sezione Efebo prospettiva i cinque film della sezione Efebo prospettiva e sceglieranno quello che a loro giudizio è più vicino al loro sentire e parliamo ancora di spettacolo in scena Sina Domenica al teatro al massimo di Palermo il caso Tandoi per la regia di Michele Guardi Dramma e momenti di inaspettata leggerezza caratterizzano il caso Tandoi la commedia scritta diretta da Michele Guardi in scena al teatro al massimo di Palermo sino a domenica 30 ottobre Il testo è una bella invenzione che mi sono trovato tra le mani perché è un autore praticamente sarei io che rientra nella sua soffitta dove abitualmente scrive e ritrova i personaggi protagonisti della storia che vuole raccontare qual è la storia la storia è il delitto Tandoi un commissario assassinato al viale della vittoria di Agrigento negli anni 60 mentre abbraccio abbraccetto della moglie è un procuratore che incredibilmente e immediatamente stabilisce chi è il mandante del delitto c'è poi una giustizia sulla giustizia perché fortunatamente dopo che vengono assolti tutti un procuratore della Repubblica di Palermo che viene mandato ad Agrigento a cercare di capire le ragioni di quel delitto il procuratore Fici un uomo illuminato lungimirante attento alle cose di legge scopre quali sono le vere ragioni e hanno a che fare con qualcosa che è diverso del delitto di natura sentimentale In scena protagonista Gianluca Guidi che interpreta i panni di un autore Il mio personaggio è un personaggio inventato nel senso che è l'autore un autore quindi in questo caso credo di impersonificare addirittura niente meno che Michele Guardi che scrive una commedia sul caso Tandoi e quindi risveglia nella sua mente i personaggi ovviamente la sua mente è il palcoscenico dove ci sono i vari personaggi che stanno dormendo da anni e lui li risveglia per appunto creare scrivere questa nuova commedia che avrà un finale poi diverso da come andò la vicenda o meglio raccontare il vero finale della vicenda Parliamo di sport brutte notizie per il Palermo che a causa dell'infortunio di domenica dovrà fare a meno dell'esterno Salvatore Elia per almeno due mesi e domani Rosa Nero sfidano il Modena in trasferta vediamo il servizio per Salvatore Elia adesso c'è anche la certezza il giocatore Rosa Nero dovrà operarsi in quanto sono stati confermati i sospetti emersi alla fine della partita di domenica contro il Cittadella l'esterno del Palermo ha subito una lesione del legamento collaterale del ginocchio destro e per questo dovrà essere sottoposto ad intervento Elia sarà dunque costretto a star fuori per quel che rimane del 2022 almeno due mesi serviranno per recuperare e poi bisognerà attendere la risposta del giocatore alla fase riabilitativa l'operazione si svolgerà di comune accordo con l'Atalanta che è proprietaria del cartellino notizia negativa in un momento particolarmente delicato per la squadra di Corini che dopo i due pareggi Casalinghi con Pisa e Cittadella si prepara per la difficile trasferta di Modena in programma domani pomeriggio il tecnico ha lavorato in settimana anche sui cambi di modulo così come visto nelle ultime sfide ufficiali il posto di Elia che starà fuori come l'altro infortunato Sala verrà quasi certamente occupato da Valente suo sostituto naturale in avanti con Brunori al centro dovrebbe essere riproposto Di Mariano dubbi a centrocampo dove Corini pensa al reinserimento di Stulaz fra Modena e Palermo al Braia il fischio d'inizio è programmato per domani alle ore 14 Bene questa era l'ultima notizia vi ringrazio per essere stati con noi vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Media News Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti